Hype nelle ultime ore sta avendo dei seri problemi riguardo ai pagamenti con carta conti corrente e ovviamente quando vai anche a comprare qualcosa su Amazon ti blocca la carta perché il servizio non funziona quindi in questo caso come puoi vedere se ti esce un errore del genere non è solo a te ma è proprio a tutti i clienti che stanno usando Hype quindi in questo caso come puoi vedere come puoi vedere ho scritto anche allora attraverso le mail hello.hype.it mi hanno detto gentile cliente da diverse ore stiamo registrando dei rallentamenti dell'interruzione d'accesso e nell'utilizzo di alcuni servizi Hype proprio come c'è scritto qua sopra e quindi dobbiamo solamente aspettare che risolvano il loro problema quindi in questo caso vi ho lasciato in descrizione pure il link che vi porterà sulla pagina degli aggiornamenti quindi mi hanno lasciato questa pagina degli aggiornamenti aggiornamenti eccoli qua di servizi in corso ultimo aggiornamento alle ore 15.46 del 9 aprile ovviamente è successo è iniziato ormai da domenica domenica sera e come puoi vedere c'è scritto che non riesco ad accedere all'applicazione a pagare cosa sta succedendo non vedo il saldo ma ovviamente dove posso prelevare al momento i servizi di prelievo con tanti presso i bankomat e pagamenti sono regolarmente funzionali quindi in questo caso tu puoi prelevare i tuoi soldi però non puoi usare la tua carta di credito e il servizio ha l'applicazione quindi non puoi usare niente però puoi prelevare i tuoi soldi poi i bonifici ricorrenti funzioneranno ugualmente tutti i bonifici che hai precedentemente programmato potrebbero non essere effettuati e ovviamente c'è un problema per me perché ho programmato un bonifico su un'altra carta di credito e mi resta aspettato pertanto sarà necessario verificarne lo status dell'attualista movimenti e nel caso non fosse andato a buon fine predisporlo nuovamente quindi in questo caso quello che dobbiamo fare è aspettare che risolvano il loro problema io pensavo che fosse solamente il mio che non andava hype il servizio non mi andava bene quindi è proprio un servizio proprio un problema di hype quindi se vi è stato utile questo aggiornamento questa notizia ti ho lasciato anche il link in descrizione che puoi seguire così gli aggiornamenti sulla pagina di hype e quindi spero tanto che i servizi poi riprenderanno a funzionare al più presto ma spero entro stasera quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao